E' un gruppo che suona dal vivo, anche un po' dal morto, ma chi sono? Ha detto che sono Jumbo, è un nuovo numero, sono Six Beople, c'è anche una sigla, donna, Maria, come Maria, ma davvero, si chiama Maria Vergine, la regia forse ha bevuto a mia insaputa e soprattutto senza il mio permesso, ma hai bevuto stasera, hai preso una birra, vero? La regia ha preso una birra, queste sono cose da risapersi, bene, ciao!